Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio e volevo fare la recensione a un film che sta per uscire nelle sale italiane che è Jodorowsky's Dune o Dune di Jodorowsky. È un documentario che racconta l'opera mai realizzata da parte di Leandro Jodorowsky in merito al suo progetto Dune tratto dal romanzo di Frank Herbert. Il film esce il 6 di settembre nei cinema italiani e l'ho visto prima e volevo raccontare di quello che è un progetto che per ben due anni Jodorowsky e non solo Jodorowsky hanno lavorato ma poi nel momento in cui c'era da quagliare, trovare i soldi per finanziare un film ambizioso purtroppo crollò tutto questo magnifico castello di carta che è stato progettato nei minimi dettagli da Aleandro Jodorowsky. Il documentario è diretto da Frank Pavic, in realtà è un documentario non recentissimo, del 2013-2014, però esce solo adesso nelle sale italiane ed è un film secondo me da vedere per diversi motivi. è un documentario classico ma interessante nel senso che vengono fatte diverse interviste soprattutto a Jodorowsky ma a tutti quelli che hanno lavorato, è un backstage, hanno lavorato alla progettazione del film prima del primo Jack che non è mai avvenuto. Quindi a fare ovviamente da portabandiera, da capitano è un ispiratissimo Alejandro Jodorowsky ma con lui ci sono anche il produttore Michel Seydoux, il disegnatore Giger, l'altro disegnatore Chris Fosse e ci sono una serie di aneddoti, uno più bello dell'altro, sulla progettazione. Il documentario appunto parte da un piccolo cappello introduttivo per raccontare chi era Jodorowsky all'inizio degli anni 70 perché il film, l'adattamento di Dune da parte di Jodorowsky si doveva realizzare appena prima Star Wars o Guerre Stellare quindi siamo a metà anni 70 e questo cappello introduttivo racconta un po' chi è Jodorowsky, la sua figura anche carismatica e misteriosa dei suoi successi all'inizio con il topo e la montagna sacra e del suo tentativo di fare questo progetto nel quale è stato ovviamente chiamato anche in causa per la lavorazione negli anni 70 a Mebius. Il film è un alternarsi di appunto interviste a tu per tu con Jodorowsky che raccontano i mini dettagli qual era il suo progetto a alternarsi con appunto il produttore del film, materiali fotografici e materiali di repertorio. ne viene fuori un quadro completo di quello che sulla carta poteva essere, doveva essere un film straordinario senza mezzi termini e avrebbe anticipato George Lucas di gran lunga, nel senso di qualche anno a quello che poi è stato Guerre Stellare e tutto ciò che ne ha conseguito. Era un film studiato nei mini dettagli Jodorowsky si sente nell'intervista, era proprio ispirato, aveva proprio voglia, lo sentiva suo questo progetto e anche le dichiarazioni che fa nel documentario era che lui voleva fare una versione di Dune allucinogena come se chi andasse a vedere il film fosse sotto effetto di LSD anche se non l'avesse assunta tanto per farvi capire qual era l'intento. È il progetto che vediamo su carta e purtroppo solo su carta era un progetto straordinario al punto che nel raccontare questo documentario Jodorowsky tira fuori un libro gigante dove c'era tutto lo storyboard del film ed è un libro, vi giuro, di queste dimensioni, ora nel video così forse non vi fa rendere conto di quanto fosse grosso ma era tutto il film sulla carta, proprio inquadratura per inquadratura, dettagli, colori, movimenti di camera cioè era proprio un film progettato alla grandissima e nel guardare questo documentario si sente tutto il pensiero che aveva Jodorowsky per questo adattamento che non era solo un film di fantascienza ma era un film anche di filosofia e il concetto di filosofia è quello che anche Jodorowsky voleva per i suoi collaboratori cioè tutta una parte, il film dura circa 90 minuti, cioè tutta una prima parte in cui spiega come lui andava a scegliere i suoi collaboratori sia per quanto riguarda la parte tecnica che era fondamentale anche per gli effetti speciali tant'è che c'è anche una parentesi collegata a chi fece gli effetti speciali di 2001 di Sé nello Spazio proprio un approccio nel senso che lui voleva lavorare con persone che non solo credessero nel suo progetto ma che avessero lo stesso spirito è lui che insiste tanto su questo discorso, insiste sul fatto che chi doveva lavorare con lui era un guerriero uno pronto a dare tutto se stesso per questo film e tra i vari collaboratori che vengono chiamati in causa c'è ad esempio Dan O'Bannon che è quello che non solo produsse Dark Star con John Carpenter ma oltre a essere attore era anche quello che si occupava degli effetti speciali e lui per caso lo scoprì e volle avere lui nella sua più tecnica non è solo questo le cose interessanti che questo bellissimo documentario racconta in una forma diciamo classica, semplice ma dove vengono fuori tantissime informazioni, tantissimi aneddoti perché come hai detto c'è sia appunto l'intervista, materiali in repertorio, disegni, storyboard cioè ce n'è di materiali è interessante come ad esempio lui aveva scelto un cast un cast dire ambizioso e dire poco tra i nomi che cita Jodorowsky c'era Dalì che doveva fare il ruolo dell'imperatore e viene svelato, non ve lo dico, nel documentario come l'hanno convinto c'era Orson Welles, c'era Amanda Lear insomma c'erano dei personaggi un tantino importanti per l'epoca ed questi sono solo alcuni dei personaggi che vengono citati il documentario per tre quarti della sua durata appunto racconta tutta questa progettazione un po' diviso in capitoli, un po' diviso per argomenti fino ad arrivare alla parte finale che sono gli ultimi più o meno 20 minuti dove si racconta come il progetto collassò cioè nel senso che non vide purtroppo mai la luce visto il documentario il rimpianto è grandissimo perché veramente oltre ad essere un film ambizioso era un film che richiedeva un budget gigantesco ma il risultato sarebbe stato solo un film che avrebbe cambiato la storia del cinema allora e che invece questo cambiamento avviene poco dopo con Guerre Stellari dal quale vengono fatti anche dei parallelismi da un punto di vista di inquadrature ma non scendo nel dettaglio dicevo, negli ultimi 20 minuti si racconta come il progetto collassò perché ovviamente Jodorowsky per realizzare questo film doveva rivolgersi alle measure di Hollywood e le measure di Hollywood a quel tempo siamo a metà nella prima metà degli anni 70 erano molto diffidenti nel finanziare progetti rischiosi progetti che potevano ritorcere il scontro o risultare dei mega flop allora Hollywood e si può dire anche in parte adesso preferiva progetti scuri commedie film con attori collaudati non era ancora arrivato o si stavano muovendo quelli che saranno il movimento della nuova Hollywood dove i vari Zemecki, Spielberg, Coppola John Landis e tutti quanti stavano per arrivare però fino a quel momento Hollywood non voleva assolutamente rischiare per cui Jodorowsky prende porti in faccia da Disney Paramount Warner e un'altra cosa che spiegano è che non solo non voleva rischiare ma avevano dubbi in Jodorowsky stesso tant'è che per cercare di convincere i produttori americani non andò Jodorowsky di persona che comunque una fama l'aveva da un punto di vista di botteghino i suoi film negli anni 70 hanno fatto sfraceli in tutto il mondo quindi da un punto di vista di botteghino era uno che faceva guadagnare ma aveva anche la nomea di essere un regista abbastanza particolare basta se non avete visto è il topo e la montagna sacra vedeteli perché sono due film straordinari ma capirete cosa intendo anche proprio da un punto di vista sia di regia che di materiale inquadrato e quindi Hollywood non voleva avere a che fare con una persona del genere tant'è che lo stesso produttore evitò questo e si presentò da ogni produttore appunto con quel libro di cui parlavo cioè di questo tomo gigantesco straordinario che mi piacerebbe vendessero qualche editore lo pubblicasse perché era una roba bellissima nel film viene sfogliato e ci sono degli storyboard bellissimi dei bozzetti dei disegni bellissimi quindi spero prima o poi che qualcuno lo pubblichi perché secondo me sarà di scuno successo ma chiusa la parentesi si presentava proprio con questo materiale con proprio un libro per dimostrare quanto il progetto fosse serio e neanche questo sistema bastò per convincere i produttori di Hollywood a realizzare un film del genere un film ambizioso un film grandioso un film che sarebbe stato un successo questo non possiamo dirlo sappiamo solo che il documentario qua chiude con Jodorowsky che commenta il Dune di David Lynch che uscì qualche anno dopo primissimi anni 80 prodotto da De Laurentiis non vi dico come commenta ma nel vedere il film si sentì sollevato questo è quello che volevo dire in merito al documentario diretto da Frank Pevich di Jodorowsky's Dune o Dune di Jodorowsky in arrivo al cinema dal 6 settembre per questa recensione è tutto ciao a tutti e alla prossima